Assistiamo veramente tutti sabato a una, io la chiamo la fiera dell'abusivismo. La fiera del commercio abusivo è a Padova e vive l'apice ogni sabato in Prato della Valle dove il problema non è mai stato così diffuso e dove continua a proliferare come assicura Vanda Pellizzari che del settore rappresenta in città una memoria storica. Visto e considerato che nulla veniva fatto, hanno fatto il passaparola evidentemente quindi c'è un mercato ma veramente fiorente. Controlli ce ne sono? Assolutamente no, mai visto uno, io non ne ho mai visto uno, io sono spesso qui in Prato della Valle io passo e mi guardano anche male, l'unica che passa sono io, indisturbati lavorano devono combattere con questo abusivismo, con questa concorrenza assolutamente sleale questi non pagano tasse, non pagano nulla, non è possibile, non è possibile. Il dito è puntato sulle promesse non mantenute dalla giunta Giordani promesse rimaste sulla carta mentre il fenomeno continua a crescere i commercianti si sentono abbandonati e le saracinesche si abbassano. Io sono molto battagliero come tutti sanno, se mi danno una pettorina gialla io vado un giro a fare i controlli, però io avevo fatto durante l'ultimo consiglio comunale ho presentato un emendamento che tra le altre cose è stato anche ammesso in cui chiedevo che come promesso in campagna elettorale dal sindaco che appunto aveva promesso di tutelare in tutte le maniere il piccolo commercio la tutela parte anche dalla lotta all'abusivismo ci vuole una lotta veramente seria? Non basta dirlo, bisogna farlo. Bisogna me ha scamb grade all'美國 Tusuno